L'elezione dei consiglieri della provincia di Chieti. Su 1.248 amministratori locali sono andati a votare in 805 urne chiusi alle 20 di ieri per il rinnovo dei 12 consiglieri provinciali dopo l'elezione del presidente Mario Pupillo in quota PD del 31 ottobre scorso. Oggi abbiamo quindi il nuovo assetto del consiglio che conferma l'assetto dei due anni precedenti ovvero sei consiglieri al centro-sinistra e sei consiglieri al centro-destra quindi il presidente fa la differenza però devo dire che in questi due anni abbiamo lavorato benissimo in sintonia e spero di poter continuare con lo stesso spirito cioè di grande collaborazione affinché i nostri cittadini possano avere il maggior numero di servizi da parte della provincia. E veniamo ai nomi degli eletti Gabriele Paolucci, Luca Paolucci, Arturo Scopino, Vincenzo Sputore, Massimo Tiberini, Nicola Tiberio, Gabriele Di Bucchianico, Fabrizio Leonzio, Elisa Marinelli, Graziano Marino, Efrem Martelli, Emiliano Vitale.